Tra i vari settori colpiti dalle nuove misure restrittive emanate dal governo con l'ultimo DPCM, risulta esserci anche quello del mondo dello spettacolo. Dopo un'estate di protocolli e nuove regole per poter tornare ad ospitare in sicurezza il pubblico dal vivo, teatri, cinema e non solo si fermano nuovamente. Uno stop non compreso dagli operatori del settore, e che alimenta il rischio di tagliare tanti posti di lavoro per una categoria mai tornata ai ritmi pre-lockdown. Diverse però sono state le idee e le soluzioni messe in campo da subito per non bloccarsi del tutto, come ad esempio quella di aprire lo spettacolo in streaming. Il Cinepara Festival ha confermato di poter mantenere il lavoro per i propri contratti, perché ovviamente ha un bilancio in ordine e anche un sostegno dal Ministero che permette di poter svolgere comunque l'edizione, magari trasmetterla in streaming, ma dobbiamo essere vicini, ovviamente lo siamo anche nei incontri che stiamo facendo in questi giorni, tutte le realtà professionistiche chiederemo ovviamente anche alla regione Marche di riattivare il fondo d'emergenza che era stato presposto nei mesi scorsi e che in primavera ha dato risultati importanti sia ai singoli che alle compagnie più compite e ovviamente ci faremo in questo caso anche nel mio ruolo di Presidente del Consorzio Marche Spettacolo anche promotori di azioni per aiutare a districarsi nei vari provvedimenti di ristoro tutti gli artisti e le persone del mondo dello spettacolo. Amat ha rinunciato a più di 60 spettacoli, molti tra l'altro nella nostra provincia e molti nella città di Pesaro e a livello regionale parlavo un conto rapido con i colleghi, credo che siano più di 250 gli eventi annullati, insomma era il riavvio di stagione e quindi adesso a porte chiuse insomma ci prepariamo sia ad offrire nuove occasioni di bellezza agli spettatori attraverso le forme in cui potremo farlo, penso allo streaming, penso agli spettacoli digitali e poi insomma speriamo che davvero poi dal 25 novembre si possa tornare davvero ad avere il teatro tra le possibilità per vivere più serenamente questo periodo così triste, così faticoso. Storie più complicate invece per il cinema, con la distribuzione di pellicole ferma ormai da mesi e che proprio ora si apprestava a lanciare qualche nuovo titolo per le sale. Una crisi che i grandi schermi pesaresi hanno vissuto in un complicato periodo di passaggio, dopo l'abbandono di UCI dalle sale marchigiane e l'intenzione da parte del gruppo Giometti di riprendere le proiezioni nella grande struttura del quartiere Torraccia durante il periodo natalizio. Noi siamo sempre rimasti proprietari della struttura, abbiamo solo ceduto l'azienda e adesso l'accordo con UCI finiva il contratto d'affitto dopo nove anni e abbiamo ripreso in mano le strutture, fatto un accordo anche per la risoluzione del personale che sono 36 mi sembra e le strutture. E invece con il DPCM come cambia lo scenario? Mi piacerebbe saperlo, nel senso cambia in un modo abbastanza critico per noi come per molte altre attività, cambia per la situazione epidemiologica che c'è in giro e aspettiamo nuove. Adesso il termine di questo DPCM è il 24 novembre, speriamo che la situazione migliore anche se così non sembra per poi riaprire prima di Natale. Naturalmente i tempi sono molto più ristretti per risistemarle come avremmo voluto noi, vorrebbe dire che sarà un lavoro work in progress mantenendo per prima la sicurezza e poi dopo l'allestimento, il comfort e le altre cose che sono la normalità. La crisi del settore cinema è anche nel comparto produzione proprio per l'arrivo dei film? Soprattutto quello, infatti il problema nel cinema è proprio quello lì perché ad esempio le major americane, Disney, Warner per fare alcuni nomi, sappiamo come la situazione negli Stati Uniti è peggio che da noi, quindi hanno bloccato le produzioni o perlomeno le produzioni già fatte le stanno dirottando sulle piattaforme, chi di proprietà chi non. Sappiamo tutti che le piattaforme adesso hanno un potenziale enorme anche per l'acquisizione dei diritti, qualche film era uscito già durante il primo lockdown, qualche film uscirà adesso, il nostro timore è quello che anche i distributori italiani, nazionali, prendono le stesse misure e quindi passano direttamente fin sulle piattaforme conosciute.